Ci sono dei posti dove ti senti subito a casa, dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico, come questa sfoglia emiliana, lavorata a lungo e tirata con cura, come vuole la tradizione. Barilla te ne ripropone il segreto con le sue emiliane, le lasagne per esempio. Così a tavola scopri l'Emilia, vere emiliane, vero piacere. Dove c'è Barilla c'è casa.